però lui non ha molta vita perchè non può curarsi quindi... grazie per l'angolo è bravo con l'archibugio lo so, l'ho buttato in mare bello questo mi schermava una roba per sperimenti sia ok, non siamo più a rischio fondamento per ora si, sono rientrato adesso il punto è provare a farci un buco a vicenda e... provo ad abbordare a casissimo vai, vai il tiro non è male non mi sa che mi chiameranno quindi mi attacco e basta ok, mi sono attaccato e basta vediamo cosa fanno vanno per affondare, allora sento l'acqua uno di loro sta arrivando all'interno di noi ah, mi è... è salito a bordo ok ho ucciso quello di loro non mi cosa devo fare? eh, torna io sono con lui a bordo e abbiamo dei buchi ok ok sto provando tantissimo tira l'ancro ce la fai ho sterzato eh no, andate alla direzione opposta rispetto a dove vado io mi spiace, non ce lo faccio loro sono appondati? si? si tenta di rimanere vivo è una parola e io appena mi da la sirena provo a... ok, l'ho ucciso sto secchiando malissimo a me ha dato la sirena adesso del mio secondo ok, ok, ok tengo la nave quando torni ripara ok, ok ok, ok